ed eccoci qua eccoci qua benvenute venuta lupi ok dei ciao daniele ciao ragazze ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti allora questa è una prima assoluta lupi ok dei un panel con tre persone facciamo cacciare no spero che sarà organizzata bene anche perché voi siete tre professional organizer quindi le persone ideali per organizzare qualcosa di nuovo ci troviamo il tema che andiamo a affrontare è un tema super importante quando si parla di crescita ieri abbiamo affrontato il tema della delega con pia nicola de maria e con la delega arriva anche tutto un discorso di comunicazione nel team un argomento che a me sta caro perché io tutti i giorni comunico con con i miei collaboratori si cerca di farlo nel modo migliore e qual è il modo migliore uno deve trovarlo un po stava facendo e iniziare iniziare subito in questo panel sarà organizzato così facciamo un po di faccio delle delle domande e lascio a voi la parola a turno per per darci il vostro punto punto di vista innanzitutto facciamo un giro di presentazioni così ci raccontate chi siete cosa fate chi inizia sabrina inti tu vado allora buongiorno di nuovo a tutti io sono sabrina organizza vedi già già mi confondo sabrina toscani di organizzare italia e la prima e unica azienda in italia che si occupa di organizzazione professionale quindi di aiutare le persone a organizzare meglio tempi spazi risorse lo facciamo in tutti i vari contesti dove ci si deve organizzare quindi un po dappertutto per cui principalmente nelle aziende ma anche nelle scuole coi bambini coi docenti insomma il metodo organizzativo serve serve dappertutto servirebbe fin da piccoli e serve in ambito di lavoro proprio per aiutare anche non solo a lavorare bene se stessi ma a lavorare bene con gli altri quindi è proprio ad hoc rispetto al tema di oggi ciao a tutti sono debora e lavoro da remoto al cento per cento e mi occupo di assistenza virtuale e appunto di attività legate all'organizzazione in particolare all'organizzazione digitale lavoro con altri professionisti e imprenditori e li aiuta appunto a gestire meglio il loro tempo liberandoli da tutte quelle attività operative e diciamo esecutive bene chiara tocca a me ciao a tutti io sono chiara battaglioni sono appunto una professional organizer quindi anch'io mi occupo di organizzazione personale nell'ambito lavorativo sabrina è stata la mia maestra quindi all'epoca nel 2013 quando eravamo pochissimi io ho conosciuto lei quindi è stata lei a introdurmi in questo mondo anche perché venivo da cose completamente diverse e lo faccio soprattutto con liberi professionisti e piccole attività quindi l'organizzazione del lavoro partendo dal singolo quando è freelance ed è fondamentalmente incasinato perché c'è un po tutte le cose da fare su di sé ma poi un po alla volta cresce il lavoro aumenta ho visto che oggi si parla di crescita e quindi diventa sempre più importante l'organizzazione per coordinarsi anche col proprio team con i clienti e con insomma il resto del mondo ok perfetto allora parliamo di comunicazione nel team quali problemi vedete nella comunicazione all'interno dei team con cui di clienti con cui lavorate quali sono i problemi più comuni che vedete beh allora parto parto diciamo da quello che guardandomi indietro nel senso quello che è stato il mio percorso professionale che ha riguardato un po diversi aspetti nel senso che io sono partita da aziende come dipendente di attività molto piccole quindi sotto dieci dipendenti per poi passare ad aziende più strutturati diciamo con duemila dipendenti e dal 2016 invece con la libera professione andando a lavorare in team più piccoli e più fluidi quindi non diciamo fissi come prima con il lavoro appunto come dipendente se trovo un un problema che accomuna tutte queste differenti diciamo differenti contesti nei quali ho lavorato è sicuramente una mancanza di comunicazione ma non tanto perché non ci si parla perché non si dedica tanto tempo a definire come comunicare perché nella maggior parte dei casi in realtà basterebbe una domanda cioè noi voi come voi come vogliamo comunicare basterebbe questa per definire mettere le basi proprio per organizzare meglio la comunicazione questo cosa comporta una cattiva comunicazione comporta due problemi cioè due conseguenze una evidente e una un po più sottile la conseguenza evidente che poi diventa anche una causa perché innesca poi un circolo diciamo vizioso che tra l'altro potrebbe anche andare avanti per anni se non si interviene è quella di o gestire due volte le stesse attività quindi sovrapporsi in termini di persone perché io pensavo che io pensavo che oppure mancare bucare queste attività nel senso che si lasciano lì fino a quando non ci si pone la domanda ma queste cose che io dovevo fare è sempre per un che porta molti problemi l'altra conseguenza diciamo meno evidente è una mancanza di fiducia che si nota questa cosa soprattutto nelle aziende quando una persona che deve mandare l'email comincia a mettere in copia tutta l'azienda perché ah io te l'ho detto poi poi sono fatti i tuoi cioè così si scarica la responsabilità in una miglia impressionante questa cosa si ripercuote anche nelle riunioni perché si pensa che basti dare un titolo a una riunione mettere due punti mettere la cosa in agenda e ok la riunione a posto quando in realtà prima c'è tutto un mondo da gestire e organizzare quindi ecco per riassumere dal mio punto di vista è sicuramente una mancanza di tempo dedicato a come comunicare mi accodo io perché sposo completamente il il l'analisi di debora e aggiungerei un pezzettino che secondo me è fondamentale cioè non so cioè oltre a definire come comunicare ma anche dedicare del tempo a definire il valore rispetto a che cosa è importante per il nostro team per il nostro cliente per il progetto che stiamo seguendo e che cosa lo è meno e così anche per l'urgenza lavoro anche facendo formazione in azienda quindi in contesti anche molto grandi di forma di di multinazionali e vedo che quando si aprono un po questi discorsi del tipo mi è arrivata l'email ho partecipato a una riunione che non si sapeva bene esattamente che cosa dovessi fare sta roba finisce qui come diceva debora qualcuno l'altro giorno mi ha detto il dimenticatoio paura il problema è che se questa cosa è comparsa per qualcuno probabilmente era importante quindi non ci siamo detti non abbiamo dedicato del tempo dell'attenzione della cura a definire proprio anche l'importanza dei vari step l'importanza delle informazioni la gestione di un cliente che cosa mettiamo prima che cosa mettiamo dopo penso per esempio a quando mi chiamano a fare gestione del tempo uno strumento che viene proposto come organizzativo che è la matrice di Eisenhower che è una matrice in cui si propone di suddividere le attività fra urgenti e importanti ecco io non la utilizzerei in modo individuale quando si tratta di un team ma si potrebbe utilizzare questo strumento per fare proprio un'analisi condivisa dei valori e quindi definiamo come comunichiamo quali sono le cose importanti per il nostro team e poi dopo iniziamo a lavorare quindi deve essere una parte propedeutica come diceva debora Sì aggiungo anche il mio commento e riporto magari l'attenzione perché questo è un po' il nostro approccio alla persona cioè l'urgenza di comunicare in realtà nasce dal nostro cervello quando noi affrontiamo la giornata si trova già forse all'inizio mille comunicazioni mille cose da fare e da portare a termine e parte già con l'idea di cioè a piacere di provare a chiudere dei cerchi nel provare e nell'urgenza di provare a chiudere questi cerchi che sono mille e uno in più se ne assumono altri e la tendenza è di farlo a tutti i costi no quindi magari tutto quello che arriva senza dargli una perfetta priorità e anche in uscita cioè io dico tutto a chi mi passa davanti digitalmente o fisicamente e questo è poi il problema di base da cui poi sorgono i problemi di cui parlavano Deborah e Chiara cioè la mia urgenza di chiudere cerchi non è lineata con la necessità degli altri o le priorità degli altri di poterti ascoltare in un determinato momento e esserci lì col cervello per te no quindi il fatto di scrivere chiamare mettere sul all'istante diciamo mandarti qualcosa per me io chiudo il cerchio ma te intanto vieni invaso da informazioni che magari in quel momento non riesci a trattare quindi instant messaging e whatsapp e mail a go go oppure anche riunioni però appunto non pensate diciamo bene rispetto a questo quindi quest'urgenza va sicuramente un po' riguardata e rispettata rispetto a come voglio lavorare ma soprattutto visto che stiamo parlando della comunicazione mettiamoci un minuto anche nei panni del povero cervello del mio interlocutore è il momento giusto è l'ambito giusto è il contesto giusto si può fare meglio e di solito qui allora viene poi quello che ci suggeriva anche Deborah cioè parliamone vediamo quando è il momento giusto e qual è lo strumento giusto da usare tra di noi affinché i nostri cervelli possano lavorare in una maniera un po' migliore perché se no a fine giornata lo sappiamo arriviamo cotti no cottissimi e magari neanche tutto soddisfatti di tutto quello che abbiamo fatto proprio perché sono arrivati troppi stimoli e troppi già partendo già da una bella carica no della mattina quindi insomma questo è un po' l'approccio cioè cerchiamo di pensare che cosa come può lavorare meglio il nostro cervello perché ne abbiamo uno ne abbiamo uno e quello degli altri funziona come il nostro quindi e anche loro ne hanno uno quindi insomma un po' nel rispetto ecco nel rispetto dell'organizzazione della comunicazione e rispetto degli altri anche devo ammettere che in alcuni punti mi sentivo proprio che stavate parlando di me si parla spesso di comunicazione sincrona e asincrona e noi abbiamo utilizzato la chat per tantissimo tempo Slack come metodo di comunicazione a un punto estremo dove io i miei collaboratori non li ho sentiti al telefono per anni adesso invece abbiamo iniziato a introdurre delle call di settimana quindicinali per avere i momenti appunto sincroni e asincroni qual è la differenza tra questi due tipi di comunicazione? come mi ha insegnato Sabrina perché ho detto a mia maestra partirei dalle definizioni così proprio ci chiariamo allora magari io dico la sincrona poi passo la palla la comunicazione sincrona avviene quando mittente e destinatario del messaggio sono contemporaneamente nella stessa situazione il messaggio passa e la risposta è in tempo reale quindi l'esempio più classico può essere il telefono e la comunicazione in presenza quindi siamo fisicamente nello stesso posto ci parliamo io esprimo un messaggio e Daniele che è con me mi risponde quindi questa è la sincrona passo palla invece la sincrona è quando il mittente cioè io in questo caso voglio comunicare una certa cosa ma non mi aspetto una risposta diciamo in tempo reale dal singolo destinatario o da più destinatari quindi quando veicolo qualcosa che verrà diciamo letto comunque affrontato in un secondo momento e anche più volte perché il vantaggio della sincrona è qualcosa che rimane che può essere consultato più di una volta a seconda delle esigenze del destinatario scusa no no ho finito scusami no dicevo anche qui darei una lettura ripartendo dalla nostra mente dal nostro cervello allora nella sincrona io posso toccare io mio interlocutore sono sicura più o meno che mi arriverà una risposta e quindi a proposito di chiusura di cerchi tendenzialmente lo posso chiudere tutto il resto e quindi sono gli incontri le riunioni cioè non solo le riunioni inteso come ci troviamo in sala riunioni facciamo la riunione che quella è classica ma anche l'incontro uno a uno l'incontro anche estemporaneo uno a uno oppure la telefonata estemporanea cioè qualsiasi momento in cui io il mio cervello può comunque chiudere alcuni cerchi in maniera immediata tutto il resto è asincrona è lì il problema credo nel senso che tra un incontro e l'altro tra una riunione e l'altra come comunichiamo e quali sono le aspettative del mio cervello rispetto alla risposta ed è lì che nascono tutte le cioè già gestire una riunione e un incontro non è a fatto facile ci vuole del però ci si può applicare insomma e ci si riesce il grosso del problema per i nostri cervelli è quando non ci vediamo cosa succede quindi dobbiamo comunicare o sì o no innanzitutto perché stabiliamolo insieme e se dobbiamo comunicare allora nella sincrona prendiamoci un attimo di tempo per risolvere come comunicare nella sincrona perché se sì non è detto che sia Whatsapp oppure lo è detto per te ma non lo è detto per me non è detto che sia la chiamata non è detto che quando passi davanti alla mia porta in ufficio mi interrompi ogni secondo oppure cioè non è affatto detto che tutto sia normale lo possiamo decidere insieme e questo è sempre più cioè sembra ci sia un'accettazione che non debba essere così invece è il punto è dobbiamo metterci d'accordo innanzitutto io e te che siamo quelli magari che lavoriamo cioè i nostri cervelli lavorano più spesso insieme per esempio e quindi capiamo questa sincrona come gestirla e cominciamo a dare un peso che è un lavoro di impostazione ma che va fatto altrimenti si arriva a quello che dicevano anche Deborah Chiara prima soprattutto Deborah diceva si perdono dei pezzi cioè è impossibile non perderli perché se non perché se ti arrivano da 5 possibilità diverse da 70 persone diverse come fai a non perdere come fai al tuo cervello a dargli un peso quindi bisogna che ci agevoliamo in questo bisogna un po' investire del tempo prima però per goderne poi dopo e soprattutto di nuovo fare lavorare i nostri cervelli Daniele un po' più tranquilli non so come sta il tuo ma un po' più sereni intanto c'è una Marisa chiede un chiarimento quindi nell'esempio di questo incontro è sincrono o asincrono? questo è sincrono è sincrono assolutamente è sincrono però push nel senso che noi stiamo vi chiedendo a voi senza sapere cosa ne pensano i nostri cervelli quindi diciamo però potete fare le domande e Fabrizio dice se uno dei quattro non risponde asincrono ma vuol dire che si è addormentato assolutamente sì va bene allora prossima domanda quindi adesso che abbiamo scoperto che cos'è la comunicazione asincrona e la comunicazione sincrona quando usare quale? perché qui a volte si forma un mischione si scrivono un messaggio via chat pensando che devi rispondere subito si scrivono per dire che ti hanno mandato un'email spesso i canali si diventano una cosa confusa esatto o ti telefonano per dirti che ti hanno mandato l'email succedono tutte le varie comunicazioni quindi quando usare quale? è la migliore esatto perché succede questo? perché il mio cervello ha un'urgenza più o meno vera o più per me no? perché a volte non è sempre la cosa più importante ma magari può essere può essere vero e quindi in qualche modo lui vuole chiudere poi se ne strafrega abbastanza del tuo no? e quindi ti cerca dappertutto anche in bagno finché non ti trova e questo è un po' per come si muove il nostro cervello avendo quest'urgenza che dicevo all'inizio credo che una delle delle cioè delle cose che rischia di complicare è dare troppo spazio allo strumento da usare e non tanto al metodo quindi io posso anche decidere lo strumento ma deve essere l'ultima cosa da fare prima io devo capire se appunto se dobbiamo comunicare veramente perché non è detto che lo dobbiamo fare tra un incontro e l'altro perché magari intensifichiamo gli incontri e quindi non c'è bisogno di sentirsi in altro momento adesso faccio esempi un po' estremi ma se noi ci troviamo tutti i giorni mezz'ora magari non c'è bisogno di scriverci ogni tre secondi un whatsapp mi viene da dire potrebbe facilitare non lo so bisogna bisogna pensarci insieme nel tendere a organizzare la comunicazione si dà troppo valore allo strumento e troppo poco al metodo lo strumento arriva solo in fondo come dicevo quindi io devo capire che cosa ci serve cioè noi dobbiamo capire che cosa ci serve se ci serve veramente e che cosa ci serve condividere in quali momenti in che maniera e poi andiamo in cerca dello strumento più vicino che non è mai l'ideale probabilmente e lo strumento più vicino gli strumenti più vicini sono quelli più semplici di solito cioè gli strumenti che hanno troppe opzioni tendono a complicare quindi il mio suggerimento sarebbe anche per il cervello dopo si incasina di nuovo se ha troppe opzioni da usare per la comunicazione che io devo fare con te era più semplice quando c'era solo la cornetta perché potevi comunicare non avevi altre opzioni dovevi fare così o col gettone adesso si vede di che epoca sono appunto così però adesso che invece li posso comunicare dappertutto diventa veramente più problematico quindi va proprio studiata insieme vero verissimo e concordo in pieno con col fatto di attribuire diverse percentuali su quella che è una sorta di attitudine e quello che è poi appunto la scelta dello strumento per capire quando usare diciamo una comunicazione sincrona e assincrona cioè intanto a mio avviso non devono mancare certo con percentuali diverse ma soprattutto con forme di lavoro ibride come ci sono adesso un po' in presenza un po' online non tutti siamo uguali e c'è chi magari a casa a lavorare da solo si sente impadiso c'è chi invece soffre la solitudine in modo molto forte quindi ecco che una comunicazione periodica sincrona aiuta a mantenere quello che potrebbe essere un senso del gruppo eliminarla completamente è davvero rischioso per rispettare il concetto di rispetto che diceva anche Sabrina rispettare oltre al tempo altrui anche quello che è il carattere più introverso più estroverso c'è chi ha bisogno di più spinte chi no e chi va via come un treno da solo che invece ha bisogno semplicemente di un confronto quindi tenere presente anche che cosa fa una persona il rispetto passa anche da rispettare le sue attività questo perché nel mondo del lavoro ci sono facendo proprio una generalizzazione pazzesca c'è chi fa attività più manageriali quindi decisionali teoriche di concetto e chi fa più attività esecutive operative quindi ci sono i manager ci sono i maker i cosiddetti sviluppatori programmatori fotografi grafici creativi eccetera un maker ha una gestione del tempo molto diversa da un cosiddetto manager perché il manager è più abituato a saltare di ora in ora cioè se guardate l'agenda di un manager ha tanti blocchi di tempo corti diciamo questo nella maggior parte dei casi ovviamente un maker ha bisogno di blocchi di tempo molto più lunghi per entrare nel flusso e fare il suo lavoro se continuava a spezzettare questo tempo con telefonate riunioni chat con qualcosa di sincrono il maker soffre ma che rottura queste riunioni quando si dice ma perché ho fatto quella riunione quando potevo fare il mio lavoro e soprattutto queste riunioni magari vanno a bucare quelle che sono le ore migliori di quella persona perché ognuno di noi non rende otto ore lo stesso modo è impossibile ci sono gettone di tempo d'oro che andrebbero protetti ecco quindi anche questo quando si sceglie una comunicazione bisogna tenere in conto di tanti fattori concordo con tutto quanto hanno detto le colleghe aggiungo solo una parte un po' più generale sul concetto appunto noi ci siamo presentati siamo professional organizer tutte e tre ci occupiamo di organizzazione e spesso c'è l'idea che l'organizzazione come concetto sia qualcosa di estremamente rigido quindi definisco una serie di criteri e li mantengo fissi stabili perché l'organizzato è il precisino quello che non sgarra un momento super ordinato eccetera dal nostro punto di vista e mi sento abbastanza di parlare a nome delle colleghe è importante invece sottolineare quanto l'organizzazione efficace è un'organizzazione flessibile che può cambiare in base a un cambiamento di esigenza del team Deborah diceva ci sono professioni diverse che hanno caratteristiche proprio strutturali diverse se per esempio all'interno del nostro team i ruoli cambiano oppure si aggiungono dei maker piuttosto che c'è un nuovo manager eccetera è possibile che lo stesso team cambi e che quindi di conseguenza cambino le esigenze quindi tutto il lavoro di definizione del metodo di chiarirsi come comunichiamo che cosa comunichiamo deve anche essere considerato come un lavoro che necessita una revisione periodica e quindi anche la struttura organizzativa che si dà al team può cambiare purché e questo è fondamentale a fronte di un cambiamento ci sia un'adeguata comunicazione interna e accordo interno del cambiamo la modalità per questo motivo e ci deve essere un perché forte e condiviso quindi mi trovo sposo completamente tutto quello che è stato detto ci tenevo ad aggiungere questa cosa proprio perché appunto si pensa troppo all'organizzazione come la gabbia è l'esatto contrario cioè l'organizzazione è quella linea guida quel metodo che definiamo insieme ma che poi deve muoversi sia un sistema cioè non è una gabbia i punti si muovono e noi con loro perché insomma le cose cambiano e c'è c'è l'imprevisto e non è di certo l'organizzazione quella che ci farà risolvere tutto quanto e eliminare l'imprevisto dalla faccia della terra ma è proprio l'organizzazione che ci permette anche di muovere le pedine sulla tavola da gioco per ottenere poi quelli che sono i risultati del nostro gli obiettivi del nostro team ok fantastico adesso che abbiamo un po' capito che sono gli strumenti che ci devono aiutare non noi che dobbiamo servire loro quali sono gli strumenti che consigliate che ci possono aiutare nella comunicazione allora qui però riprendo da dove avevo chiuso prima cioè questo è proprio siccome è l'ultimo delle cose a cui dovete pensare questo pezzo qui non ve lo ricordo dovete dimenticarvelo perché se no pensate che vediamo gli strumenti che sono quelli d'oro il problema è proprio quello che sottolineava Chiara cioè se io parto dallo strumento allora mi ingabbio da solo perché lo strumento ti darà alcune opzioni alcune possibilità che tu pensi che siano quelle giuste perché te lo sta suggerendo lo strumento e lì è l'inizio della fine dell'organizzazione della comunicazione quindi tornando al metodo cerchiamo di semplificare il più possibile e quindi ci dobbiamo domandare primo tra un incontro sincrono e un altro dobbiamo comunicare sì o no? se no siamo già a posto se sì allora che cosa dobbiamo comunicare quando? poi alla fine solo come il come è lo strumento ok? quindi una volta che sono arrivata a dire come posso anche pensare a cosa serve una delle cose che noto io è che bisogna proprio trovare una mi viene da dire qui sì una regolamentazione una normazione tra di noi che lavoriamo insieme sull'instant messaging siccome c'è di sicuro cioè se io devo comunicare qualcosa tra un incontro e l'altro diciamo sicuramente abbiamo deciso che dobbiamo comunicare spesso proprio per chiudere i miei cerchi ti cercherò di trovare al volo perché così chiudo al volo il mio no? quell'urgenza che dicevamo all'inizio quindi l'instant messaging deve essere regolamentato tra di noi poi non aziendalmente magari anche aziendalmente ma inizialmente tra di noi e quindi cercherei di trovare un che non sia Whatsapp ecco possibilmente perché Whatsapp è un po' troppo invasivo un altro instant messaging aziendale o di gruppo di lavoro che nella vita faccia solo l'instant messaging cioè mi scrivi in un posto con non come Whatsapp che è un macello di gruppi e di Whatsapp scusate e temi dove il tuo cervello non può che andare in confusione ma in un posto che vada già a progetto quindi immagino che ci siano dei progetti in instant messaging che io mi vado a vedere solo quando ho tempo quindi come fosse un'email ma già dedicata già già organizzata in categorie da chi mi scrive ok o comunque insieme in modo tale che lo sforzo di chi scrive sia scrivo nel posto giusto e lo sforzo di cervello mio è molto meno perché a quel punto apro lo strumento e me lo vado a vedere quando ho tempo so di cosa sto parlando perché sono nel progetto giusto nella categoria giusta e quindi il mio cervello va molto meglio è molto meno e togliamo tutte le altre cose quindi è in un posto unico non più whatsapp non più la telefonata al volo perché poi rimarrà quella urgenza che però è solo l'un per cento il due per cento del lavoro in cui ti devo chiamare per forza anche quando magari ti disturbo no tutto il resto non può essere un continuo ti scrivo mi rispondi ti riscrivo mi rispondi di là poi quello che dicevamo prima poi mi chiami per dire se ti hai visto il messaggio perché per il nostro cervello è devastante sì tra l'altro questo concetto del del posto unico si sposa molto anche su tutto il mondo dei vari project manager quindi tutti i vari Trello Asana Basecamp Monday Notion eccetera 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 che c'è veramente il mondo quando per esempio si coordinano le informazioni all'interno di un team è chiaro che un gestionale e quindi un punto di coordinamento delle informazioni ha sicuramente del potenziale un po' per il il concetto che diceva Sabrina di avere un unico posto dove andare a recuperare le informazioni nel momento in cui ne ho bisogno quindi il project manager per intenderci sta nella sincrona nella comunicazione assincrona ha totalmente del potenziale perché comunque ti permette di avere una visione di insieme che è poi fondamentale anche per definire come stiamo andando avanti a lavorare quali sono le prossime priorità che cosa c'è rimasto indietro magari accorgerci anche no che abbiamo perso un pezzo per strada e ci può evitare proprio perché un po' tutti i project manager che esistono sul mercato hanno anche la possibilità di inserire dei commenti e quindi magari evitare non solo tutta una serie di altri messaggi asincroni tipo le email ci si aggiorna direttamente all'interno del project manager ma anche ci aiuta quando poi andiamo invece a pianificare i momenti come diceva Deborah che sono fondamentali di incontro sincrono perché magari lo stesso project manager ci aiuta a dire ok siamo arrivati oggi facciamo una riunione rispetto a siamo arrivati qui che cosa faremo dopo e non è magari neanche necessario fare quelle riunioni di aggiornamento di lavori perché semplicemente abbiamo uno spazio condiviso accessibile a tutti da remoto eccetera poi quando arriva la domanda ma meglio Trello o meglio Asana come diceva Sabrina non è lo strumento il punto perché ce ne sono tantissimi funzionano tutti bene assolutamente alcuni hanno delle caratteristiche che li fanno preferire a un determinato team altri delle altre il punto è sempre prima sedersi capire che cosa ha bisogno il nostro team di questo questo e questo e poi dopo andiamo a cercare lo strumento che più si si adatta e poi c'è Deborah che li conosce tutti quindi nel caso nel dubbio chiedete voi a lei guarda vi presentate il nostro team ha bisogno di questo questo e questo e lei vi sa la ricetta faccio la battuta perché hai capito arrivano a noi queste domande ma meglio uno o meglio l'altro è che la risposta giusta non c'è c'è quella che funziona per il tuo team ma a me parte proprio l'avena qua quando mi dicono Trello o Asana c'è qua verde cioè senza dire cosa fanno chi sono che c'è niente vabbè stasera carne o pesce sì praticamente no no c'è assolutamente d'accordo anche perché appunto la scelta dello strumento è una delle fonti di procrastinazione più invasive che abbiamo perché si perde tempo a mettere appunto lo strumento mettere il fiorellino mettere la roba e poi alla fine cioè dopo due mesi non lo usa più nessuno perché la curva di apprendimento è talmente alta che vabbè ciao torniamo a whatsapp appunto cioè ai vocali di 20 minuti che ci aiutano comunque quando si sceglie uno strumento cioè ci sono più o meno tre i fattori uno appunto quello che abbiamo detto delle esigenze dei bisogni reali che il team ha e le caratteristiche tecniche quindi cosa appunto mi offre quello strumento quanto costa e che cosa ho già soprattutto nel mio team perché magari ho già quello che mi serve devo solo un attimo ricalibrare l'utilizzo e organizzarlo appunto e non mi serve niente io non devo sempre aggiungere si pensa sempre ok adesso dobbiamo organizzare la comunicazione cosa possiamo aggiungere no cosa potete togliere cioè partite da lì partite da cosa avete già poi magari appunto se avete già ad esempio se un'azienda che ha già il mondo microsoft c'è già tutto quello che vi serve dovete solo calibrarlo invece il libro professionista magari appunto avrà bisogno dello specifico strumento da organizzare da mettere a punto non sottovalutate la curva di apprendimento che deve essere diciamo che deve andare in parallelo alle esigenze se vi serve solo uno scambio di messaggi cosa ve ne fate dello strumento che ci mettete due mesi a metterlo a punto che vi costa magari mille euro al mese per dire che ha 200 funzioni di cui ne usate una quindi ecco occhio a quello che scegliete quindi avvalutate questo valutate cosa avete già nel vostro team e mettetelo a punto per darvi qualcosa di concreto se volete qualcosa proprio di terra terra curva di apprendimento bassa e messa in pratica veloce google drive per dire fate un indice con un google sheets con docs eccetera vi fate la vostra wiki interna come si gestisce la comunicazione partite da lì volete qualcosa più simile a un database andate su Notion andate su Airtable e create qualcosa che sia usabile da tutti perché se poi vi scontrate con l'utilizzo delle persone andate verso il cimitero degli strumenti dopo 4 o 5 strumenti che avviate li lasciate lì e li lasciate perdere quindi occhio a diciamo a valutare bene lo strumento mi ha fatto morire il cimitero degli strumenti e li sono immaginati là tutti con le ragnatele con le ragnatele ma sai quanti avviate 200 abbonamenti che poi tra l'altro costano pure e poi sono lì con le cose se posso aggiungere per rinforzare quello che c'era Deborah quanto è importante la condivisione di questa cosa cioè è impossibile quasi per il nostro cervello accettare qualcosa che ci appioppano al di fuori se si riesce è meglio partire tutti i pari quindi contribuire tutti i cervelli a capire qual è la scelta giusta per ciascun cervello perché così sono molto più motivata a provarlo e altra cosa proviamo cioè questo lo avete detto in tutte le salse per altri contesti no? è l'unico modo è provare per vedere se funziona e quindi se è una cosa troppo complicata da provare come giustamente dice Deborah cioè ti tagli le per quello dicevo semplifichiamo al massimo e proviamo quella cosa che risponde all'esigenza macro poi rifiniamo le altre cose però già il good enough qui cioè premia veramente allora perfetto iniziamo un momento di domande e risposte ci sono già un po' di domande che si sono che sono arrivate via chat però la prima domanda ce l'ho io una domanda specifica per Deborah è meglio Trello o Asana ho già le cuffie vedi sono pronta a rispondere ma perché il cervello di Gabriele c'aveva questo cerchio aperto con l'urgenza di chiuderla oggi esatto no scherzo la prima domanda che ho è allora avete parlato di gettoni di tempo d'oro c'è un po' questo mito che la mattina presto sia più produttivi bisogna svegliarsi alle 5 fare un sacco di cose vi ritrovate in questa cosa cioè è vero ci sono delle fasce orarie che sono più che sono migliori di altre sono uguali per tutti come funziona Deborah se vuoi sì sì allora sicuramente sì nel senso che non sono le stesse per tutti indubbiamente cioè ognuno di noi appunto ha un cosiddetto cronotipo o comunque attitudine alla giornata che diciamo l'aiuta ad affrontare le attività più complesse in diversi momenti appunto di tempo il fatto che ci siano diversi rendimenti questo è cioè nel senso non dico che riguardi proprio tutti tutti ma penso proprio di sì nel senso è praticamente impossibile reggere saltare allegramente da un'ora all'altra e avere lo stesso carico di energia e attenzione perché non è tanto un fattore di tempo lì ma è proprio un discorso di mettere l'attenzione e avere l'energia giusta che mi cioè mi aiuti appunto a mettere in pratica e a portare avanti quel lavoro quindi sicuramente sì diventa fondamentale conoscersi conoscere se stessi scrivere magari se non sia bene chiaro qual è l'andamento della propria giornata prendersi del tempo per due settimane e segnare esattamente quanto il tempo ma anche che cosa faccio che cosa mi porta via da un'attività che cos'è che mi fa distrarre e così via proprio gestire queste cose e poi sì ecco se so che la mattina ma anche il pomeriggio non è così indicativo se so che la mattina lavoro meglio e riesco a fare attività legate magari più a un discorso di concetto qualcosa di più elaborato devo proteggere quel tempo assolutamente ok invece io ho visto che sulla comunicazione poi si crea una specie di escalation o meno quello che faccio è vero se ti mando un'email non ti telefono e dire che è arrivata l'email però se dopo un certo tempo non c'è una risposta all'email magari ti scrivo su via chat per dirti che ti ho mandato quest'email cioè c'è una forma di escalation da un mezzo di comunicazione all'altro e questa è una cosa normale una cosa che va definita all'interno di un team o va lasciata un po' alla sensibilità di ognuno dovete dei consigli su questo? io sull'email mi sentirei comunque di dire per esempio nel momento in cui ricevo una richiesta è comunque anche una buona forma di professionalità e sempre di rispetto come diceva Sabrina verso le esigenze degli altri quantomeno dare un riscontro anche solo del tipo ho ricevuto quindi ho letto quello che mi hai chiesto lo potrò seguire questo pomeriggio domani ti posso posso raccogliere le informazioni e risponderti la settimana prossima questo tipo di email che potrebbe essere chiamata appunto email ponte è un email che a me costa pochissimo in termini di velocità ma che all'altra persona dà quel senso di ascolto cioè di essere compresa capita e questa secondo me è sempre una buona una buona abitudine ed è una di quelle azioni da meno di due minuti che il buon David Allen che è questo esperto di produttività che ha creato il metodo GTD insegna cioè due minuti mi costa poca energia poca fatica dall'altra parte do alla persona la conferma di aver capito il problema e probabilmente eviterò la telefonata o il sollecito poi è chiaro che ci sono alcune persone che sono un po' più collanzione e va bene anche queste si imparano a conoscere e si imparano a identificare delle modalità di comunicazione diverse perché poi appunto ogni team è diverso e bisogna anche un po' capire le persone di cui è composto sempre il rispetto per i cervelli degli altri salviamo i cervelli se posso aggiungere l'escalation è pratica ma è soprattutto emotiva cioè se c'è un escalation è perché il mio senso di ansia la mia frustrazione il mio fastidio non lo so stanno aumentando il mio intendo io che ti cerco in tutti i modi e questo è interessante perché di nuovo ci mette nella posizione di dire vabbè ma io come sto rispetto a questa cosa cioè come sta il mio cervello e anche come sta il cervello dell'interlocutore quindi se capita una volta può succedere però se capita di frequente il nostro modo di collaborare mette tutti in ansia o almeno mette noi due o almeno mette il mio cervello nelle modalità perché poi con le emozioni spiacevoli non è che il cervello funzioni al meglio cioè mette l'attenzione su quella cosa lì e questo ruba attenzione a cose molto più importanti quindi quanto è importante chiarirsi e ritorniamo a quello che dicevamo prima quindi questa escalation è anche emotiva ricordiamoci fantastico grazie domanda di Fabrizio quale può essere il miglior metodo per ottenere una reazione nei casi in cui il tuo interlocutore non risponde avete un segreto su come comunicare per non urtare il soggetto ma essere visibili? se posso dire che questa cosa della gentilezza anche questo il nostro cervello è sociale quindi tendenzialmente nelle nostre scelte tendiamo a essere sociali vogliamo essere accettati apprezzati e quindi il rispondere subito o il non urtare diventa una modalità che per carità è rispettosa nella forma ma è rispettosa poi nel succo e quindi qui torniamo credo a quello che dicevamo prima cioè se capita una tantum pace ce lo mettiamo via però se è una diventa una modalità in cui sono sempre in attesa di risposta dalla stessa persona io credo che valga la pena dedicare a questa persona un incontro ma non accusatorio cioè non te sei sempre no? perché allora già parte male ma quanto in ascolto cioè sappi che io quando non ricevo risposta per tua cioè sono emotivate praticamente provato no? perché quindi come possiamo migliorare com'è che posso aiutarti a capire quando rispondermi cioè cerchiamo di mettere tranquilli entrambi i cervelli perché uno di solito non è che lo faccia in mala fede chi non ti risponde semplicemente è incasinato di suo può essere? Sara chiede la scelta dello strumento sarà comunque da far approvare dall'azienda quanta libertà dare al team? qui dipende sì secondo me qui dipende molto dal contesto nel senso tra l'altro appunto noi ci occupiamo di organizzazione personale e partiamo proprio nell'approccio tipico della nostra professione dai singoli che poi iniziano a lavorare insieme io per esempio quando vado a fare formazione in azienda parto totalmente dagli strumenti che sono già disponibili perché ripeto come diceva anche Sabrina la differenza non è lo strumento è il metodo quindi per esempio soprattutto le grandi aziende che magari hanno la suite di Microsoft si parte da lì e si propone un utilizzo migliore di Outlook un utilizzo più strategico di per esempio dove inserire le liste e allora vediamo Microsoft ma perché c'è già lì e quindi è inutile anche andare a cambiare perché gli strumenti che possono aiutarci ad organizzare il lavoro non sono poi così diversi gli uni dagli altri sì alcuni hanno delle caratteristiche tecniche leggermente diverse ma non è che ti cambiano non sono quelli che spostano l'ago della bilancia quindi almeno questa è la mia risposta io non non proporrei mai o quantomeno è rarissimo non mi è ancora mai capitato di fare un cambio di strumento si parte da quello che c'è e piuttosto se ne migliora l'utilizzo se posso aggiungere una cosa dalla mia personale esperienza gestendo un team ho notato che funziona funziona molto di più quando si coinvolge comunque il team nella scelta dello strumento e lo si testa insieme insomma perché quando si calano le cose dall'alto è più difficile poi farle farle adottare questa è la mia piccola esperienza Valeria chiede lasciare uno spazio della giornata dove far confluire le richieste può aiutare a capire cosa c'è di urgente e anche se è davvero urgente assolutamente sì sì ci sono certi certi blocchi di tempo che si chiamano buffer o chiamateli insomma spazio di riserva in più che non sono dedicati ad attività specifiche ma servono proprio per rimbalzare tutte quelle interruzioni quelle possibili interruzioni che ci capitano durante il giorno quindi a quello che diceva Chiara quando ci arriva qualcosa un'email la gestisco alle arriva la telefonata no guarda adesso non ho tempo lo rivedo alle quindi cercare di concentrare in questo spazio in più quindi che non è destinato a un'attività specifica e programmata in precedenza proprio per gestire quelle richieste quelle cose in più perché tutti di noi abbiamo degli imprevisti durante il giorno è impossibile non averli però occhio alle percentuali perché se l'80% del vostro giorno è fatto di imprevisti tutti i giorni insomma c'è qualcosa che non va quindi dedicate degli spazi di buffer alla vostra agenda assolutamente proprio per evitare quelle interruzioni negli altri blocchi più importanti almeno questo è il mio consiglio mentre leggevo la domanda sorridevo perché Valeria è la nostra customer success manager all'interno del Facebook ok io quando c'è qualcosa da sistemare scrivo subito invece e quindi mi sento un po' si sta organizzando vedi sta vedendo Michi chiede riconfermate anche voi l'idea che riprendere dopo ogni interruzione ti costa più di mezz'ora credo ti costa più di mezz'ora e che il multitasking in realtà allunga la durata di ogni singolo lavoro cioè quella cosa di cambiare mentalmente da un task all'altro condividiamo questa è la neuroscienza sono tutte univoche sul fatto che di come lavorerebbe bene il cervello e tutta la tecnologia attuale lo fa lavorare al contrario di come lavorerebbe bene naturalmente quindi multitasking no no monotasking sì piace molto al cervello e qualsiasi tentativo di multitasking cognitivo non solo allunga la durata ma rischia di farti fare anche molti più errori anche errori che talvolta non puoi neanche più recuperare no perché immaginiamo la guida il cellulare semplicemente perché il cervello non è fatto per fare multitasking cognitivo e quindi è del tutto controproducente e anche le distrazioni e le interruzioni che portano il cervello da un'altra parte il tempo che il cervello ci rimette a tornare a quello che sta facendo con la massima concentrazione a parte che la massima concentrazione non la non la riesce più ad avere proprio per questa ragione perché poi le interruzioni si fanno sono quella anche piccola cosa che ti porta via da lì questo sforzo che il cervello fa non solo ti fa perdere un sacco di tempo ma anche un sacco di energie quindi a fine giornata non solo hai saltato a continuazione ma sei anche stanchissimo quindi è molto spossante per il cervello quindi tutte cose che confermiamo Michi chiede anche quando hai il povero quando hai il povero che si sente negato digitale mi lasci la possibilità di non usare la tecnologia o gli insegni almeno un metodo ah ok quelli che ti dico no no io solo telefono non uso l'email cosa si fa? secondo me anche qui dipende da che cosa ha bisogno il team nel senso che il tema del rispetto dei cervelli degli altri è fondamentale quindi sull'organizzazione personale gli si lascia carta e penna perché comunque funzionano sono strumenti che aiutano tantissimo l'organizzazione personale poi è chiaro che se il team ha bisogno di un certo tipo di feedback da parte di questa persona dovremmo insieme trovare un modo perché la cosa ci funzioni insomma poi si può essere creativi ecco altra cosa perché si pensa che l'organizzazione non sia creatività è tutta creatività perché ogni persona è diversa ogni team è diverso e quindi troviamo insieme delle soluzioni anche che non sono quelle classiche delle cose un po' particolari che però funzionano per noi va bene tutto purché ci funzioni ci alleggerisca e ci semplifichi il lavoro e il carico mentale e tema delle riunioni i moderni i moderni i moderni di come ridurle solo a 25 minuti confermate anche questo che voi i moderni o no c'è un bel purtroppo c'è un bel anche qua un bel dipende perché intanto dipende da avere chiaro qual è l'obiettivo il macro obiettivo della riunione nel senso la riunione serve solo per sbrogliare un argomento per comprenderlo meglio per arrivare più comprensione o la riunione serve per prendere una decisione fatta e finita a seconda di quei casi il pre tutto quello che porta alla riunione è molto più importante della riunione stessa e quindi la durata in realtà è molto indicativa a mio avviso cioè 25 minuti ma a cosa servono questi 25 minuti per attività di networking per conoscersi per sbrogliare un problema e dipende cioè non c'è io non non mi sento di dirvi fate le riunioni da 25 minuti poi se vogliamo guardare i metodi di lavoro nello scrum ad esempio tutte le mattine si parte con degli scrum di 15 minuti e lì c'è proprio il tempo massimo che non può essere esporato ma proprio perché è un'attività che viene fatta tutti i giorni alla mattina proprio per consolidare questi team che lavorano da remoto e partire con il piede giusto però è una regola che vale per tutti assolutamente e dipende dallo scopo che ha quella riunione tra l'altro scusate è un po' come la domanda che gli fa venire la vena qui la Deborah nel senso che è come lo strumento cioè è meglio una riunione di 60 minuti due ore o 20 minuti è come dire appunto se è meglio Trello o Asana o quello che è perché purtroppo qui bisogna sempre vedere quali sono le necessità dopodiché alcune riunioni come diceva Deborah può darsi che funzionino meglio ma perché ci siamo già chiariti che cosa ci serve qual è il metodo e quindi diamoci una regola in modo tale da non disperderci ma viene a valle di tutta la considerazione fatta prima quindi torniamo lì poi se la riunione finisce prima di quello che era programmato vedete la prima sì sì esatto la famosa flessibilità che dicevi all'inizio c'è problema insomma anche qualcuno me l'ha chiesto in azienda qualche settimana fa sì sì ma perché bello in calendario non si può cambiare sì sì il calendario dice che deve essere 65 facciamo allora c'è una non è una domanda ma una riflessione di Simone che dice sono sempre più convinto che saper comunicare sia la chiave giusta per valorizzare ogni ambito della vita umiltà e empatia fondamentali ma anche non sottovalutare paraverbale e non verbale grazie penso che siamo tutti d'accordo con Simone fantastico allora ragazzi io vi ringrazio veramente per aver partecipato a questo WP OK Day è stato molto interessante mi sono sentito proprio toccato nel profondo alcune cose che avete detto no però è stato veramente super interessante il discorso di comunicazione all'interno di un team e visto che parliamo di crescita tanti stanno magari iniziando magari da libero professionista ci si evolve verso essere imprenditori con un team ed è complicato perché bisogna selezionare le persone imparare a delegare delle attività che prima si facevano magari in autonomia e poi imparare a comunicare con le persone con cui con cui si ha che fare ogni giorno è super importante penso che sono cose difficili ma non si può fare a meno non si può evitare di fare queste cose quindi vi ringrazio veramente per il vostro intervento grazie a te Daniele dell'invito e alle mie colleghe che è stato un piacere ci vediamo di solito in contesti più interni quindi è stato proprio bello e grazie a tutti e a tutte che ci hanno seguito grazie grazie dell'opportunità e buona organizzazione a tutti esatto ottimo lasciamoci così buona organizzazione a tutti grazie ciao ciao ciao